Allora, siamo qui, Roma, secondo giorno persona così seria, abbiamo avuto un primo giorno veramente impegnativo, ma anche tanto, tanto bello e soddisfacente. Oggi, altro giorno veramente carico, cominciamo subito questa mattina con Marco Guadagno, voce storica di autore di operaggio che è meglio, tra le tante cose da quattro occhi, avremo poi subito dopo Cristian Yansanti, invece uno delle giovani, relativamente giovani, leve del doppiaggio che ha già doppiato una marea di cose, ultimamente lo conoscete come il protagonista di Walking Dead, avremo Marco Mete, qui un altro pilastro del doppiaggio fantastico, parliamo della voce di Roger Rabbit, di Data di Star Trek, è stato Robin Williams in moltissimi film, oltre ad essere anche lui un grande direttore di doppiaggio, e affronteremo anche, oltre al doppiaggio, l'adattamento, soprattutto dal punto di vista della musica, con Enrico Brancucci, il nome magari non vi dirà niente, ma scoprirete delle cose molto molto interessanti, e queste sono aggiornata, perché poi questa sera ci aspetteranno altre grandi sorprese.